Musica Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallannuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi il nostro ospite, il mancino della N-Brescia Boris Vapensky. Ciao Boris, benvenuto. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie di avermi. Allora, partiamo dall'analizzare gli ultimi risultati. Con quali indicazioni avete archiviato le nette vittorie ottenute prima contro la Rarinante Salerno in campionato e poi contro la Dynamo Tbilisi in Champions League? Era un... come posso dire questo? Due viaggi difficili. Due trasferte? Trasferte, sì. Siamo andati sabato a Napoli, poi a giocare contro il Salerno e alla fine abbiamo giocato a Napoli. C'era un confusione per... Senta chiusa la piscina per allerta medio. Sì, sì, sì. Alla fine abbiamo giocato a Napoli. Poi subito siamo arrivati a casa 11 di sera e siamo partiti subito domani mattina, domenica mattina per Tbilisi. Quindi 14 ore di viaggio era molto difficile, ma siamo trovati un modo di vincere queste due partite. Abbiamo anche giocato bene in qualche periodo. Questo è buono e è unico e importante che dopo quelle due trasferte abbiamo la forza per giocare domani anche contro l'Eco. Vi aspettavate, dobbiamo dirlo ai nostri spettatori, il girone di Champions League del Brescia è molto molto difficile con tante grandi squadre. Vi aspettavate dopo le prime quattro partite di essere in testa insieme all'Olimpiakos? Secondo me, prima di tutto, anche noi siamo una squadra, ottima squadra, quindi è normale che vogliamo vincere tutte le partite. Secondo me abbiamo sbagliato solo una a casa contro Ferenc Farros. Abbiamo pareggiato, ma tutte le altre abbiamo giocato bene, questo è importante. Certo che questo girone è molto difficile, ma anche noi, come ho già detto, siamo una squadra ottima e dobbiamo vincere tutte le partite. Se vogliamo vincere Scudetto e tutto il resto, che è il nostro obiettivo. Certo, per centrare gli obiettivi di una stagione bisogna vincerne un bel po' di partite, quindi la tua è la mentalità migliore. Esatto, esatto. Quale contributo potrà dare alla squadra, perché è arrivato in settimana a completare l'organico il nuovo arrivato, Nicolás Kostantin Bicari? Lui è un bravo giocatore, lo conosco dagli anni scorsi. Lui ha giocato bene, ha giocato anche l'anno scorso a Ferenc Farros quando Brescia ha perso in semifinale di Champions League. Lo conosciamo bene, lui è un ottimo giocatore, ci serve tanto, vedremo in qualche forma adesso, perché è appena arrivato. Ma sono sicuro che è un leone, come tutti noi, che subito domani dimostra tutto che sa e ci aiuta tanto, sono sicuro. E questo è l'auguro che anche noi ci facciamo per le sorti del Brescia. Domani ti auguri una bella prova del tuo compagno, ma penso che te la auguri da parte di tutta la squadra, perché arriva a Monpiano, la Prorecco, campione d'Europa in carica. Che partita sarà, secondo te? E' il mio primo, diciamo così, derby d'Italia si chiama. Sì, è il mio primo che sto giocando. Non lo so, sicuro che sarà anche più difficile dell'anno scorso, perché Brescia ha perso e scudetto dopo tanti anni. e Brescia è diventata una squadra fortissima, quindi con i nostri obiettivi, con la nostra squadra, che sicuro è una di top in Europa, possiamo giocare con tutti, come ho già detto. Noi siamo squadra ottima. Poi chi viene deve pensare di noi, non dobbiamo noi pensare di tutti gli altri. Quindi giochiamo a casa, c'è solo uno obiettivo, chiunque viene qui deve pensare di noi, noi dobbiamo vincere. Certo, idee molto chiare, questo ti fa onore. Per la prima volta dopo tanti anni, questa sfida cambia un po' i punti di vista, i punti di partenza, perché per anni è stato sempre recco a scendere in acqua con il titolo vinto l'anno scorso. Quest'anno è diverso. Allora tu sei arrivato alla fine dell'estate, però quale emozione si respira? Quali sono le sensazioni nell'ambiente? Cosa significa entrare in acqua da campioni d'Italia in carica? A me non cambia niente, onestamente perché io non ho giocato l'anno scorso, ma per i ragazzi è sicuro che è una cosa buona, entrano in acqua con… Più voglia, più carica. Sì, scusa per il mio italiano, ma… Ma un attimo qua, compi ti aiuto io. Mi serve un po'… Sì, 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 si dice… Con più carica. Sì, ma anche recco, anche recco vuole vincere adesso tutte le partite, sicuro, hanno una squadra bravissima, quindi è un derby italiano, sarà molto difficile, ma secondo me è questo che hai detto, che entriamo in acqua come… Come vincettori, campioni in carica, è meglio per noi, è meglio. È più facile quando entri così, hai una… non lo so come si dice, quella self-confidence in inglese. Un'autostima, un'autostima. Sì, autostima e puoi giocare un po' più facile, sai, contro dire ecco. Chiudiamo con un'ultima battuta, dove si vincerà secondo della partita? Sarà una partita dove avrà ragione chi sarà più bravo in difesa, oppure si vincerà segnando un gol in più dell'avversario? Si vincerà in difesa, sicuro, perché sappiamo che recco ha grandi tiratori e sei attaccanti, quindi noi dobbiamo fare una difesa straordinaria. Poi facciamo il nostro obiettivo in attacco, ma secondo me si vincerà in difesa. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio Boris Vapensky per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Boris, grazie mille. Ciao, grazie, grazie a te.